Tu questa sera, con Presa Diretta, ti occupi di un tema che ci riguarda in assoluto tutti. L'immondizia, le discariche, la nostra salute. Quando uno pensa all'immondizia, pensa subito alla zona della Campania. E invece, questa sera, parlerai dell'immondizia della capitale d'Italia. La capitale è Lazio, perché siamo in emergenza immondizia nel Lazio con gli stessi numeri di quelli della Campania. L'unica differenza è che noi abbiamo una enorme discarica, la più grande d'Europa, che si chiama Malagrotta, che da 35 anni prende 4.500 tonnellate di rifiuti romani, ma quella discarica sta per chiudere, anche perché è uno scandalo internazionale. L'Europa ha aperto una procedura di infrazione, perché in Europa è fuori legge una discarica così. Tu lo sai che in quella discarica l'80% di quelle 4.500 tonnellate che noi produciamo nella capitale è indifferenziato e finisce sottoterra. Quindi stiamo parlando di una cosa che è fuori dal mondo. La risposta, naturalmente, della regione Lazio, sono tutti preoccupatissimi, perché se chiude Malagrotta succederà quello che abbiamo visto a Napoli. Quindi adesso c'è un grosso piano, è diventata una partita come a Napoli, anche in questo è come a Napoli, di emergenza. Cioè la politica alza le mani, non è che dice fa un piano da qui a dieci anni per risolvere la cosa. La passa, passa la palla a un prefetto, il prefetto ha deciso due siti provvisori, uno a Riano e uno vicino a Villa Adriana. Pensa a 800 metri in linea d'aria dalla villa più bella, la villa dell'imperatore Adriano. Quindi è come mettere l'immondizia nel tuo colosseo. Certo. Poi si parla di un'altra discarica definitiva e poi di altri inceneritori. Tu Riccardo però hai trattato nel servizio che vedremo stasera anche un problema gravissimo legato alla salute. Mi sembra che tu abbia scoperto dei dati abbastanza inquietanti. Beh sì non li scopro, io li ho resi pubblici al grande pubblico perché che succede? Che una discarica è una bomba a orologeria. Comunque per quanto tu la puoi gestire bene, il fatto di tenere una collina alta a 46 metri, fatta di tal quale, di organico, questo organico si decompone, produce nel percolato e non la puoi isolare per 35 anni, ma cosa vuoi isolare prima o poi finisce nelle falde acquifere e le falde acquifere arrivano a casa nostra e ci sono molte evidenze di aumento dei tumori. È stato trovato sul capello di una persona che è morta vicino a Malagrotta delle quantità di cadmio, di ossina, metalli. Quindi diciamo noi dobbiamo andare verso un mondo in cui la discarica ci servirà sempre di meno e anche i termovalorizzatori e gli inceneritori. Esatto, quando uno dice queste cose dice sono sogni, sono sognatori. No, ti dicono che seguono, che c'è la fantasia. Non è vero, non è vero. In Italia abbiamo comunque delle realtà dove la raccolta differenziata si fa in percentuali molto alte da nord a sud. Voglio ricordare Salerno che mi sembra sia intorno al 70% di raccolta differenziata. Sono Venone, Cuneo, Assi, sono tanti comuni. Però dicono ma una città come Roma è impossibile, no? Esatto. 5 milioni di abitanti, strade piccole, quartieri storici. Ebbene, non è vero perché c'è una città enorme che è San Francisco, in California, fanno il 78% di raccolta differenziata senza inceneritori. Il loro programma si chiama rifiuti zero e dentro il 2020 non vogliono conferire in discarica neanche un chilo. E Riccardo Iacona è andato a San Francisco, vedremo tutto il servizio completo questa sera, però vi vediamo un'anticipazione. Guardiamo, magari possiamo imparare qualcosa, copiamo perlomeno. Una montagna di carta pressata che esce già imballata da questa macchina. Questa è carta bianca, quella che si usa per i documenti. Per ogni tonnellata di carta salviamo 17 alberi. E quante tonnellate fate al giorno? Facciamo 700 tonnellate di carta, quasi ogni giorno. Altre tonnellate di alluminio. È tutto alluminio che viene dalle lattine. Sono tra i 400 e i 450 chili. Si vende bene? Molto, molto bene. Costa caro l'alluminio, perché da qui ci fanno nuove lattine. Quindi vendete carta, alluminio e poi? Ricaviamo almeno una dozzina di altri materiali. Tre tipi di carta, quattro di plastica. Come questa carta che vediamo, che adesso state mettendo sul container. E a chi la vendete? Loro si rivolgono a dei broker internazionali per vendere le materie prime. Quella carta sta partendo per la Cina. La ragione per cui cerchiamo di riciclare il più possibile è che vogliamo risparmiare le risorse e l'energia che servono per produrre gli oggetti. Tu pensa quanta energia, quanto materiale, quanto lavoro ci vuole per fare una bottiglia di plastica? Tantissimo. Se la bruci, ne ricavi un 1%, quello 1% ci fa il calore, no? Ma non dovremmo produrre cose meno difficili da riciclare? Anche questo dobbiamo fare, no? E chiaramente a San Francisco lo fanno. Per esempio a San Francisco è stata bandita la plastica. Sono stati banditi i contenitori di plastica dove mettere il cibo. Sai che in America si usa molto questo di andare in giro col bibitone caldo o con il cibo... Ecco, adesso si fanno solo con dei prodotti che sono completamente biodegradabili. Perché la cosa bella della differenziata spinta è che costruisce un mondo diverso, impone a tutti. Cioè a partire da quello tu puoi fare una rivoluzione sul packaging, chiedere all'industria che per esempio se ti devi comprare una pennetta USB non c'è bisogno che ci sia sopra che oltretutto ti rompi le mani pure per aprirla. Non riesci ad aprirla, quindi bisogna essere più pratici ma soprattutto pensare che così non possiamo andare avanti. Dobbiamo incominciare a non consumare le risorse che sono finite. Siamo già in riserva da novembre. Brava. Riccardo Iacona, presa diretta stasera. Non perdete l'appuntamento su Rai 3. Grazie. E come abbiamo sentito a San Francisco i rifiuti diventano oro. Oro, davvero. In arabo oro si dice da hub. E noi adesso vi portiamo in un territorio che si chiama proprio in questo modo. Bellissimo. Partiamo.